Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Io sono Asari E io sono Matti E io sono Matti A posto Finalmente è uscito questo video con i nostri regali di Natale e Befana Ok, avrò ricordato Amunque auguri di buon Natale E auguri di buon anno E questo è il primo nostro video del 2017 Un battito 5 Allora, quindi questo sarà il video dei nostri regali di Natale, Capodanno e Compleanno E Befana Lei è Befana Già, mi fa, vabbè un regalo solo, bello Due regali, questo qui Comunque io farò Natale e Capodanno Io farò Compleanno, Natale Anche se però forse vedrete pochi perché alcuni non li ho potuto portare Già, perché siamo a casa mia E noi non si inserete Quindi bene Che ti accontenti avrei Nino Vi lasciamo al video Allora Inizio questo bellissimo pigiama Che è proprio Dai Non trovo il pantalone Però è questo qua Poi il cuscino Il cuscino emoji Che ride Poi il pantalone non lo trovo Dovrei stoppare No Va per vedere l'ultimo Una sciarpa Un elastico col fiocchetto perleto Questi sono i regali di Natale Adesso vengono quelli di compleanno Lei me l'ha regalato Non l'ho ridurluto Comunque ci sono ancora altri casi di Natale Però va a fare Questo Braciale Con le emoji Fallo a vedere Si vede No Fallo a vedere bene Allora Qua c'è l' emoji Quella che si sente figa Questa che fa l'occhiolina miccante Questa che è innamorata Questa L'occhiolina miccante E questa che è spaventata Molto bella Questi orecchini che mi ha regalato la mia compagna Cioè lei è il stile che mi ha ancora preferito Questo di orecchino a croce E poi Attenta Sara Siamo in un'angolazione quadratta Questo braccialetto Con le farfaglie Non ce lo merito Tutto questo lei non ce lo merita Da come mi tratta non ce lo merita Ok poi io torno Io ho quelli di Natale Che ho ricevuto per l'altro Il cavallano Il libro di Ben Jeffede Ti ho letto di Ben Jeffede Tutto ad un fiato Non è proprio di Ben Jeffede però E tu l'hai letto Tutto ad un fiato Sì sì In tre giorni ho letto tutte queste pagine Qua c'è il segnetto E prima Tutto In tre giorni Non interessa a nessuno E tu me l'hai chiesto Hai detto Tu l'hai letto tutto ad un fiato Sì Non so se hai capito Sì sì Ho finito Il libro più bello Lo lascio all'ultimo Ovviamente Grazie Poi questa che è la trusse Della pupa Dell'uffo polare Un po' di telefono Ti rendo molto più facial E poi Che Marta è molto curiosa Il telefono Un iphone 5c Bianco Buono Che cosa vuoi? Un iphone 5c C'è un telefono E' molto c'è un Oops Sì? Adesso E' una latera ura Adesso Bene Questi erano dei sovi Tanti regali Aspettate Che cerca i pantaloni Savr książ Vai Pantalone Morbidono Spare le leggings Sì Ok Bene Adesso Tacca a me Allora I miei genitori Mi hanno fatto tre regalini Piccoli 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 Che però Un momento Allora Iniziamo da questo Pellicciotto È un po' di fili Farlo vedere Infatti dovrò coprire Sara Per farlo vedere Allora È molto lungo Me l'avete visto nel video Nella mini canzone Allora C'è il buco C'è il buco C'è il buco Alle cose Le cose Le orecchie Al cappuccio Alle orecchie Poi Nelle maniche C'è il buco C'è il buco Per il pollice punibile Il pollice punibile Quindi questo qua Che appunto Si mette il pollice In questo modo Quindi funzionano Tipo stile guanti E poi c'è un'altra particolarità Allora All'interno del cappuccio C'è questo color corda E poi la particolarità pure È una cosa proprio invisibile Che non si è mai vista Questa cerniera un po' enorme Col cuoricino Cuoricino Quindi questo è il primo Ovviamente ha pure Ti scarico o fai? Grazie Ovviamente ha pure le tasche Qua Bene Poi il secondo regalo Sempre da parte dei miei genitori E sempre che me l'avete visto In quel video È questo mono orecchino Troppo 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 Di ruoto per me Bello Lo ho detto io Questo qua È appunto Con il piumone Con le piume La catenina dorata E le perline incastonate Di plastica Un ganchetto Che si attacca Normale Non si devono fare bucchie Niente Infine 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 Non mi ricordo Infine Gli smalti Questi tre Di Kiko Di Kiko Questi tre Di Kiko Quello l'ho girato Vabbè Non mi importa Poi Per Natale Mia zia Mi ha regalato Questa collana Sembra Alla sua Diciamo Cioè Alla sua bracciale Con questa C'è questa di qua Imporita Questa pelicce Questa innamorata Questa è qua Io sono sicura Che lo dobbiamo Registrare Sto video Sara Poi Andiamo per i regali Di Capodanno Iniziamo da questa No 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 Aspettate Per Capodanno Mia zia Mi ha regalato Questo smalto Qui nero E poi Un momento Ragazzi Vedete con questo Lupetto Perché Questa È una felpa Che mi ha regalato Praticamente Mia zia Mi hai taggato Ah ho capito Mia zia Pina Siamo Con il pregiotto All'interno Molto bella E appunto Me l'ha regalata Insieme alla smalto Perché sto attraversando Una festa A periodo Dark Ok Poi I regali di Capodanno Abbiamo questa felpa Corta Grigia Con tutti i pupazzi Diciamo Di pupazzi Di topolino È un Molto bella Con i pulcini Con la stessa Pulcini Poi Pulcini Sempre a capodanno Ho ricevuto Questa Questo gilet No non è un gilet È tipo La cosa americana Delle accademie Sì Con le righe Popolari È bianco È nero Appunto Pure con le righe Con le righi Qua nei pulcini E infine Abbiamo Per ultimo Due cappelli E sono Poi devo prevedere una foto Uno bianco Se ci riusciamo Uno bianco Normale E uno nero Bene Facebook Scusami ragazzi Avevo ricevuto Per questo portapenne Che ho vinto a tombola Bene ragazzi Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto Like Seguite Ci commentate Ciao Ciao